Punta a migliorare il quarto posto ottenuto nella passata stagione sportiva il team del reparto corse dell'Università della Calabria. La nuova monoposto è stata presentata ufficialmente nel corso di una manifestazione organizzata al Teatro Auditorium alla quale è intervenuto anche il rettore Gino Crisci. Si riparte con una nuova vettura, un concentrato di alta tecnologia interamente riprogettata. Con l'ausilio di innovative soluzioni tecniche e dinamiche sono stati sensibilmente migliorati i consumi e prestazioni. Il telaio è molto più leggero e scattante. Il motore può contare su una potenza di oltre 104 cavalli. Anche l'estetica è stata curata nei minimi dettagli grazie alla collaborazione di un designer. L'esordio nella Formula SAE, l'equivalente della Formula 1 riservata ai team universitari di tutto il mondo, è fissato per il 19 luglio a Barano, nel Parmense. Presentiamo una vettura completamente progettata da zero, completamente nuova, con tante soluzioni innovative rispetto alla vettura dello scorso anno. Quest'anno partiamo con una macchina che non dico che è tra le favorite, perché il team ormai è cresciuto, ha una consapevolezza delle proprie capacità, ha acquisito delle competenze che si sono tradotte in una vettura che ha delle caratteristiche, per quello che abbiamo già potuto vedere nelle prove che abbiamo fatto, delle caratteristiche che sembrano molto promettenti. Salvatore Bruno per la Cinus24